Bene amici, recensione flash o meglio super flash di questo Nothing Phone 2A Plus Questo è lo standard, vi dico subito se ce n'era bisogno, no, o meglio nì perché le cose che cambiano sono veramente piccole e marginali ma il colore è stupendo, con queste spire dell'NFC che riflettono così metalliche ma anche il color grigio rispetto al bianco che ho qua ma anche al nero che vi ho fatto vedere durante la recensione ha davvero una marcia in più, rimangono i super led là dietro che sono la marcia più il valore aggiunto di Nothing assieme all'interfaccia che mi piace sempre tantissimo ma alla fine le differenze hardware decantate abbastanza inutili perché vi faccio vedere come gira il 2A rispetto al 2 praticamente sembra una fotocopia, Nothing dice 10% più veloce c'è il nuovo processore di Mediatek Dimensity 7350 versus il 7200 che montava il 2A che monta e ancora ovviamente in vendita ma davvero prestazioni paragonabili io l'ho usato ormai da qualche giorno il 2A Plus poi ho preso il 2A e ho detto vediamo le differenze, ecco le state notando anche voi una mazza, non ci sono, le fotocamere sono le stesse, le batterie sono le stesse 5000 mAh anche se sul Plus carica i 50W rispetto ai 45W del Nothing Phone standard e anche le fotografie alla fine sono uguali perché le cam posteriori sono assolutamente le stesse è vero che cambia la cam anteriore questa è una foto fatta con appunto la cam anteriore e effetto ritratto 50 megapixel rispetto ai 32 però fa comunque foto da buon medio di gamma e anche i video, ne state vedendo un pezzettino in questo momento che ricordi dove ho girato questo video? beh, sono assolutamente paragonabili anche l'autonomia devo dire molto buona è rimasta perché vi faccio vedere qua lo screenshot dove, 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 qua ieri l'ho usato in maniera veramente super stress 6 ore e 49 minuti di display sono andato la sera con il 24% con questo utilizzo lui arrivava la sera giornata stress col 35% lui uguale perché 24% ma è stata una giornata più rispetto allo stress standard quindi paragonabili anche da quel punto di vista lui parte dalla 8256 lui partiva dalla 8128 la 12256 è la versione più a fuoco tra l'altro in Italia è venuta solamente questa sul Plus e vi dico subito 449 euro versus 379, 329 la versione 128 no, non vale la pena spendere di più per il Plus perché alla fine anche i display sono assolutamente uguali se siete simmiati come me di questo colore avete visto che si è acceso perché è arrivata una notifica beh allora fateci un pensierino perché il grigio è veramente, 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 veramente molto figo ma siete razionali? prendetevi lo standard perché è un ottimo telefono interfaccia molto bella personalizzata, sì, ma personalizzata molto bene con dei widget veramente particolari sotto c'è Android Stock tre anni di aggiornamenti a questo prezzo una delle migliori scelte ciao